Ciao a tutti amici youtube e benvenuti in questo nuovissimo video. Qui è sempre Toto che vi parla ed oggi andremo a completare la serie in cui vi parlo del rig che ho assemblato per la mia A6500 perché ho fatto ancora qualche piccola modifica di cui ovviamente vi devo parlare. Scopriamolo insieme! Se avete visto la seconda puntata di questa serie vi ricorderete come la mia esigenza principale nell'assemblaggio di questo rig fosse quello di ottenere la massima flessibilità possibile e quindi l'esigenza principale era quella proprio di attaccare e staccare il cage più la camera in modo molto semplice senza che ogni volta dovesse andare ad agire direttamente sulla testa fluida. A proposito ho anche acquistato una nuova testa fluida una Manfrotto 502 quella che usano i big insomma che oltre a garantire un'ottima fluidità nei movimenti di pan e tilt ovvero tutti quei movimenti che vedete quando inquadro i prodotti permette anche di regolare l'attrito di entrambi i movimenti. Una cosa molto comoda è che con la Manfrotto 500 che avevo prima non riuscivo a fare per quello magari ogni tanto vedevate dei piccoli scattini che adesso non ci sono più. Inoltre ho anche acquistato un nuovo treppiede il Manfrotto XC qualcosa è un treppiede dedicato alla produzione video ed è davvero molto stabile. La cosa che mi ha convinto ad acquistare questo Manfrotto non è solo la stabilità ma il fatto che si potesse mettere in bolla direttamente agendo sulla colonna centrale perché ha una semisfera che permette appunto di mettere in bolla tutta la testa fluida più la fotocamera in maniera molto semplice senza andare ad agire sulle gambe cose che ogni volta toglieva molto tempo anche perché il pavimento di camera mia è tutto fuorché a livello e quindi questo treppiede mi andrà ad agevolare tantissimo durante tutta la produzione. Ritorniamo però adesso al rig. Prima di tutto l'audio ve l'ho sempre detto un video non è nulla se non ha anche un buon audio e avere il microfono messo molto lontano da me andava a far sì che la mia voce risultasse un po' riecheggiante con qualche riverbero e andava a catturare qualche rimbalzo del suono e quindi l'idea che mi è venuta è quella di comprare un braccetto in modo da avvicinare il più possibile il microfono alla mia bocca proprio per evitare questi riverberi. Proprio per questo ai due rod del cage ho collegato un morsetto a cui poi ho collegato un ulteriore attacco hot show in modo da poter collegare il microfono. Questo permette di avere il microfono molto vicino alla mia bocca circa 20 centimetri ma comunque non entra nell'inquadratura. Inoltre sono andato a togliere un ulteriore elemento che altrimenti avrei collegato sul cage in modo da facilitare appunto l'operazione di togliere la fotocamera e portarla con me. Altro accessorio che reputo abbastanza fondamentale soprattutto per l'acquisto del tanto famigerato Sigma 1835 Art che anche Blink mi ha suggerito ma che pesa quasi 900 grammi e che quindi andrà a fare grossissime sollecitazioni sul corpo della fotocamera ma anche per il nuovo obiettivo che ho acquistato il 18105 se mi seguite su Instagram lo saprete già ho pensato di farmi mandare anche un supporto per obiettivi. Questo tipo di supporto diciamo che è secondario ma prima o poi vi consiglio l'utilizzo questo perché va a sgravare tantissimo le sollecitazioni che si creano sull'attacco degli obiettivi che troviamo sul nostro corpo macchina e nel caso di obiettivi pesanti o molto lunghi vi posso assicurare che è una manna dal cielo e il vostro corpo macchina sicuramente ringrazierà anche perché nel caso di urti o vibrazioni non volute le sollecitazioni saranno drasticamente abbattute da questo supporto. È un supporto molto semplice e anch'esso si aggancia ai raw di inoltre regolabile in altezza e quindi può essere adattato a tanti dispositivi. Ovviamente se usate solamente grand'angoli vi sconsiglio l'acquisto però se usaste già dei zoom o comunque delle lenti anche per ritratti piuttosto spinte allora è un acquisto che vi consiglio di fare. Sempre riallacciandomi alla seconda puntata di questa serie ricorderete sicuramente che avevo attaccato il monitor esterno grazie al quale posso vedere la mia anteprima mentre registro sulla maniglia. Maniglia che ho tolto perché diciamocelo per le riprese in casa diventa piuttosto superflua e sulla parte superiore ho attaccato un ulteriore attacco o show per poter mettere un faretto che aiuta ad avere una luce su di me un po più morbida un po più omogenea mentre grazie ad un altro braccetto collegato il monitor direttamente alla testa fluida. Questo fa sì che comunque la macchina resti libera il più possibile i movimenti rimangano molto fluidi e comunque mi dà sempre la libertà di poter ruotare a piacimento il monitor per averlo sempre visibile ed è un consiglio che do a tutti nel caso siate o un registratore esterno o comunque un secondo monitor per avere maggior controllo sulle vostre inquadrature cercate di attaccarlo non direttamente sul corpo perché questo andrà a sbilanciarvi poi durante le riprese sia sul trepede che a mano libera mentre se lo attaccate da un'altra parte avrete molta più stabilità e controllo e insomma questo è il rig alla fine completato vi ricordo che come al solito trovate tutti gli oggetti che ho acquistato qui sotto in descrizione in modo da poterli acquistare se volete su amazon oppure direttamente sul sito della smart rig che mi ha consentito di creare un mini studio in registrazione di cui sono davvero molto soddisfatto fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa rig e vi chiedo anche un'ulteriore cosa ho acquistato come vi ho detto il 18 105 di sony e poi anche un sigma 19 mm un sigma 30 mm e mi chiedevo se a qualcuno di voi potesse interessare un'eventuale recensione sugli obiettivi che ho solamente sulla parte dei obiettivi e soprattutto perché gli ho scelto perché ogni obiettivo viene usato per esprimere qualcosa per determinare un linguaggio per trasmettere insomma qualcosa dalla ripresa che vogliamo far vedere e quindi vorrei spiegarvi insomma però vorrei capire se siete interessati a questa cosa oppure no lasciatemelo qui sotto nei commenti e vi lascio anche magari un sondaggino qui nelle schede per questo video è davvero tutto ringrazio ancora smorrig iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto lasciate un bel mi piace se questo video vi fosse piaciuto ciao